Come stanno andando i saldi? I saldi sono partiti già da una settimana, anche prima. La risposta è che va molto a rilento, però la gente gradisce la vendita con i saldi. Ormai è abituata a comprare con i saldi. Che sconti fate? Noi partiamo con uno sconto dal 20% sulla linea artigianale che è made in Sicilia al 70% che sono le borse in spugna. Quindi 20, 30, 50 e 70%. Come si prospetta? Meglio o peggio rispetto alle aspettative? Speriamo bene. Troppo è un punto interrogativo questo. Non possiamo dare un giudizio né prevedere quello che effettivamente succederà. Perché per via di tutto quello che sta succedendo, quindi rincari su tutto, sulla spesa, quindi è possibile che ci sia una flessione sui saldi. Lei ha fatto shopping? Sì, ho comprato giusto qualche pensierino, ho visto la stagione che è iniziata dei saldi. Il caldo certo non aiuta. Come li ha trovati i saldi? Convenienti? Sì, 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 sono abbastanza convenienti. Anche perché c'è da dire che Vibo purtroppo non ha le grandi griffe e quindi il prodotto è super costoso. Quindi avendo già un mercato medio, ovviamente già col saldo, poi il costo si abbatte ancora di più. Quindi è abbastanza conveniente. E Vibo come la vede? Nera. Nera, sotto tutti i punti di vista. Quindi non c'è bisogno nemmeno che mi chiedi sotto quale aspetto, perché la vedo nera in tutto purtroppo. Non sono un ottimista io su questo. Lei ha anche un'attività? Quindi come sta andando? Sì, sì, io ho un'attività e l'attività diciamo va bene, sicuramente non sono gli anni d'oro, gli anni 80, gli anni 90. Però al di là di questo, della mia attività, vedo una situazione non migliorativa sotto gli aspetti non soltanto economici e lavorativi, ma sotto tutti i tipi di aspetti, insomma, turistico, culturale, economico, tenore di vita, ambiente e tutti i settori. Secondo lei cosa sta mancando? Questa è una bella domanda, non so se posso rispondere. Sicuramente penso che la colpa è un po' di tutti, non si può puntare il dito su una singola persona. La colpa è anche nostra, insomma. Ormai i saldi ci sono tutto l'anno, la gente ormai non creda più ai saldi nemmeno, perché con l'online che c'è, le occasioni si trovano tutto l'anno, la gente non aspetta nemmeno il periodo dei saldi. Una volta c'era, quando non c'era l'online, c'era il comune che ti dava la possibilità di fare sconti da tale giorno a tale giorno e poi finiva lì. C'era un'altra gestione del commercio e della vita, ha cambiato tutto. Quindi questa domanda, come vanno i saldi, si poteva fare una volta forse, ma adesso non più, per questi motivi che ho detto. La città è un po' in declino da questo punto di vista, le attività commerciali? Ma non è la città in declino. È in declino, secondo me, tutti i centri storici, tutte le città, anche in America i negozi stanno chiudendo ovunque nel mondo, perché l'online sta andando a preso piede, la politica mondiale ha voluto questo e ha spostato, sì, questo movimento economico da una parte all'altra. Quindi per coprire una buca ne ha fatto un'altra. Quindi rimane sempre con una buca da coprire, cioè sempre in difficoltà. I negozi fisici sono in difficoltà? Eh ma certo, il negozio fisico è in difficoltà, anche perché loro non pagano tasse, vanno a pagare nei partiti fiscali, le tasse non pagano, risulta che pagano ma non pagano nulla. Ripeto, la politica mondiale protegge questo discorso e il piccolo deve essere corretto e preciso. Il grande evidentemente riesce a sfuggire a queste... e non è giusto, non è corretto. Non ci può essere una legge diversa. Disparità tra online e negozi fisici? Sì, sì, perché poi alla fine io credo che pago più io di tasse che non Amazon, in proporzione.